La gente in strada che aveva chiamato i pompieri sono arrivati, abbiamo chiuso le finestre perché altrimenti il fumo veniva dentro. Attimi di paura questa mattina a Porto Gruaro intorno alle 7. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio scoppiato in un'abitazione nel rione di San Nicolò. Questo è quello che rimane dell'incendio applicato in questa abitazione nella cucina in via San Martino a Porto Gruaro da un ventenne che aveva litigato con i genitori. Non sarebbe la prima volta, racconta qualche vicino, che il ragazzo con tutta probabilità affetto da qualche disturbo mentale si rende protagonista di episodi simili, con esplosioni di rabbia nei confronti dei genitori. E questa mattina, dopo la discussione, ha preso l'accendino dando fuoco ai mobili della cucina. In poco tempo le fiamme si sono sprigionate, tanto da essere visibili anche all'esterno, ma nel giro di qualche ora i vigili del fuoco sono riusciti a domarle tra non poche difficoltà. Nessuno però è rimasto ferito. Oltre a loro sono giunti sul posto anche i carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza insieme all'ambulanza per ricoverare il giovane e sottoporlo a una cura sanitaria.